Dal Nelson Mandela Base Stadion di Porta Elisabeth, Olanda Brasile. Grandissima palla per la Pigno! No! Pigno! Che palla di Felipe Melo! Che palla! Prova, con il testo! Giulio senza il calcio d'angolo! Poi, improvviso, Guanna! Ma via, Pigno, splendidamente, vai dentro il pallone, Cacà al limite, Cacà a giro! Stegraerenburg! Spettacolo a Porta Elisabeth! Ma come intorno Maikon! Destro! Esterno della rete! Con i traversoni, Sneijder è quello che arriva per Valperzi e tippa da Pangezio dell'Olanda! Che è un autogol! Felipe Melo, autogol di Felipe Melo! Poi è malissimo, Cacà, Cacà sul fondo! Primo palo, great! E poi è Wesley Sneijder, che prende il 2-1! Olanda in vantaggio! Perde la testa un po' al Brasile! Rosso! Sotto la doccia, Felipe Melo! Uno contro uno, Cacà in ora di rigore! Cacà sul sinistro! Sul fondo! Finisce qui! L'Olanda miracolosa, batte il Brasile! E va dritta in semifinale! E va dritta in semifinale! E va dritta! Grazie a tutti.